Di seguito alcuni suggerimenti per l'asciugacapelli HC80. Accendere l'asciugacapelli con il pulsante di ventilazione. È possibile scegliere tra tre livelli di calore, temperatura bassa, media o alta. La funzione Triple Ionic consente di scegliere l'intensità di ioni adatta per ogni tipo di capello e ottenere così una conciatura personalizzata. Il livello 0 è ideale per capelli particolarmente sottili, il livello 1 per capelli fini e il 2 per capelli più spessi e crespi. Con la funzione Protect è possibile asciugare i capelli delicatamente a bassa temperatura. Il colpo di freddo consente di dare il tocco finale all'acconciatura. Raffredda i capelli e li fissa. L'apparecchio è dotato di un motore CA professionale per prestazioni elevate. È possibile asciugare i capelli o fare la piega in base alle proprie esigenze. Prima di procedere alla pulizia, estrarre sempre la spina dalla presa di corrente. L'apparecchio e gli accessori possono essere puliti con un panno morbido inumidito. Per informazioni dettagliate, consultare le istruzioni per l'uso e le avvertenze di sicurezza. Ci auguriamo che sarete soddisfatti dell'asciugacapelli HC80 di Boire.